Ok, nulla, sono Gaara, della versione scolastica femminile. È una manga... È il manga di Naruto e nulla, appartengo a una versione un po' sconosciuta, quindi insomma... È finita ormai la prima giornata del Romics, i ragazzi del cosplay stanchi, stanchi, affaticati, devastati. Ed è solo giovedì, siamo solo al primo giorno. Ma io domani starò con i jeans e le scarpe da ginnastica. Io no. Io invece sto con un'arma di 4 kg di legno, quindi è ancora meglio. Dici dove l'azione fu, vabbè, è comprata. Assassin Creed. Benissimo. Buon proseguimento. Voi state entrando adesso? Sì, siamo arrivati un po' a ritardo. Sì, è giusto una prova generale per i giorni a venire. Esatto. Ciao, grazie. Grazie. Grazie.